Nella decorazione degli interni, se non anche nell'architettura d'esterni delle loro residenze, gli inglesi sono i migliori. Gli italiani hanno poco sentimento oltre ai marmi e ai colori. In Francia, Meliora Probant deteriora Secuntur. La gente è d'indole troppo bighellona per mantenere le proprietà domestiche, delle quali ha a dire il vero una raffinata considerazione o perlomeno gli elementi per un appropriato giudizio. I cinesi e la maggior parte delle razze orientali hanno una fantasia calorosa, ma fuori di luogo. Gli scozzesi sono decoratori scarsi. Gli orandesi non hanno forse che una vaga idea del fatto che una tenda non è un cavolo. In Spagna non ci sono altro che tende. Una nazione di carnefici. I russi non arredano. Gli Ottentotti e i Kik Kapu li seguono pari pari. Solo gli Yankei sono contrari al buonsenso. Non è difficile vedere come ciò accada. Noi non abbiamo un'aristocrazia nel sangue. Ed essendoci perciò come cosa inevitabile, creata per noi stessi, un'aristocrazia del dollaro, L'ostentazione della ricchezza qui deve prendere il posto e fare la funzione dell'ostentazione araldica nei paesi monarchici. Tramite un passaggio facilmente comprensibile e che potrebbe essere stato prontamente previsto, siamo stati portati a fondere nel semplice mostrare le nostre nozioni del gusto stesso. Per parlare in modo meno astratto. Per esempio, in Inghilterra un semplice sfoggio di accessori costosi non creerebbe, come da noi, un'impressione di bellezza che riguardi gli accessori stessi o di gusto per quanto riguarda il proprietario. E questo per il motivo, primo, che la ricchezza non è, in Inghilterra, il più alto oggetto di ambizione che conferisca nobiltà, e secondo, che lì la vera nobiltà di sangue, restringendosi entro gli stretti limiti del gusto legittimo, evita piuttosto che ostentare quella semplice sontuosità a cui l'emulazione di un parvenù può a volte arrivare. E con successo. Il popolo vuole imitare i nobili e il risultato è la completa diffusione del giusto sentimento. Ma in America, essendo le monete correnti la sola arma dell'aristocrazia, ostentarle, si può dire che sia in generale l'unico mezzo di distinzione aristocratica. E il volgo, volgendosi sempre in alto per i suoi modelli, è condotto a poco a poco a confondere le due idee completamente separate di magnificenza e bellezza. In breve, alla fine, per noi, il costo di un mobile è arrivato ad essere la sola prova del suo valore dal punto di vista decorativo. E questo valore, una volta stabilito, ha aperto la strada a molti errori analoghi che si possono prontamente far risalire a quell'unica follia originaria. Non potrebbe esserci nulla di più offensivo per l'occhio di un artista dell'interno di quello che viene definito negli Stati Uniti, cioè nella zona degli Appalachi, un appartamento ben arredato. Il suo difetto più comune è la mancanza di armonia. Parliamo dell'armonia di una stanza come parleremmo dell'armonia di un quadro, poiché sia la stanza che il quadro sono riconducibili a quei principi costanti che regolano ogni varietà di arte. E quasi le stesse leggi che usiamo per decidere i meriti più alti di un quadro sono sufficienti per decidere la sistemazione di una stanza. Una certa mancanza di armonia si può talvolta osservare nelle caratteristiche dei vari mobili, ma più generalmente nei loro colori o nei modi di adattamento all'uso. Molto spesso, l'occhio viene offeso dalla loro sistemazione non artistica. Prevagono troppo le linee dritte, continuate troppo a lungo senza interruzione o interrotte ruzzamente ad angolo retto. Se ci sono delle linee curve, vengono ripetute con gradevole uniformità. Con la precisione eccessiva si rovina l'aspetto di molti belli appartamenti. Le tende sono di rado ben sistemate o ben scelte se le consideriamo vicino alle altre decorazioni. Con un arredamento formale le tende sono fuori luogo e una gran quantità di tappezzeria di qualsiasi genere è in qualsiasi circostanza inconciliabile col buon gusto, dipendendo la giusta quantità, come del resto la giusta sistemazione, dal carattere dell'effetto generale. Ultimamente i tappeti vengono capiti meglio che in passato, ma ci si sbaglia ancora molto spesso nei modelli e nei colori. Il tappeto è l'anima della casa. Da esso derivano non soltanto i colori ma anche le forme di tutti gli oggetti sovrastanti. Un giudice della legge comune può essere un uomo qualunque, ma un buon giudice di un tappeto deve essere un genio. Tuttavia, abbiamo sentito discutere di tappeti con l'aria di un muton kirev, uomini cui non si dovrebbe né si potrebbe concedere la cura dei loro stessi mustasce. Tutti sanno che un pavimento grande può essere ricoperto con figure grandi e che uno piccolo deve essere ricoperto di figure piccole. Tuttavia, la conoscenza non si esaurisce qui. Riguardo alla tessitura, quella di Sassonia è la sola ammissibile. Bruxelles è il tempo più che perfetto della moda e la Turchia è il gusto nella sua armonia morente. Riguardo ai modelli, un tappeto non dovrebbe essere agghindato come un indiano ricca lì. Tutto gesso rosso, giallo ocra e piume di gallo. In breve, sfondinetti e figure circolari o cicloidi vivaci, senza alcun significato. Queste sono le regole dei medi. L'abominio dei fiori o delle rappresentazioni di oggetti ben conosciuti di qualsiasi tipo non dovrebbe essere tollerato entro i confini della cristianità. Altronde, sia sui tappeti che sulle tende che sui rivestimenti dei divani, tutta la tappezzeria di questo genere dovrebbe essere rigidamente arabescata. Per quanto riguarda poi quei vecchi stracci da pavimento che a volte si vedono ancora occasionalmente nelle dimore del volgo, stracci con disegni grossolani, irregolari, inframmezzati da strisce e splendenti di colori, in mezzo ai quali non si distingue uno sfondo, questi non sono che la maligna invenzione di una razza di adoratori del tempo e amanti del denaro, figli di Bal e adoratori di Mammone, di Bentham, i quali, per risparmiare il pensiero ed economizzare sull'immaginazione, hanno prima crudelmente inventato il caleidoscopio e poi hanno fondato società per azioni per farlo girare a vapore. Il bagliore è un errore primario nella filosofia delle decorazioni delle case americane, un errore facilmente ravvisabile come dimostrato dalle perversioni del gusto appena specificate. Siamo violentemente innamorati del gas e del vetro. Il primo è totalmente inammissibile all'esterno. La sua luce aspre tremolante offende. Nessuno con occhi e cervello la userà. Una luce leggera o come la chiamano gli artisti fredda con le sue conseguenti ombre calde farà meraviglie persino per un appartamento arredato male. Non c'è mai stato pensiero più bello di quello della lampada astrale. Intendiamo naturalmente la vera lampada astrale, la lampada di Argand con il suo originale paralume di vetro semplice e i suoi raggi lunari temperati e uniformi. Il vetro tagliato è una debole invenzione del nemico. L'ardore con cui l'abbiamo adottato in parte a causa del suo scintillio ma principalmente a causa del suo maggior costo è un buon commento all'asserzione con cui abbiamo iniziato che chi impiega deliberatamente un paralume di vetro tagliato è o totalmente mancante di gusto o ciecamente ossequiante ai capricci della moda. La luce proveniente da uno di questi sfarzosi abomini è diseguale spezzata ed ha fastidio. Da sola è sufficiente a guastare il buon effetto dell'arredamento soggetto alla sua influenza. Soprattutto la bellezza femminile perde più della metà del suo incanto sotto il suo occhio maligno. In materia di vetro generalmente noi procediamo per falsi principi. La caratteristica saliente è il bagliore e quanto di tutto ciò che è detestabile riusciamo ad esprimere con quell'unica parola. Le luci tremolanti e instabili talvolta sono piacevoli sempre per i bambini e per gli adulti ma per abbellire una stanza dovrebbero essere evitate scrupolosamente. A dire la verità anche le luci forti e instabili sono inammissibili. I massizzi e insignificanti candelieri tagliati a prisma alimentati a gas senza parelume che dondolano nei nostri salotti più alla moda si possono citare come la quintessenza di tutto ciò che è gusto falso e ridicolmente stravagante. La mania del bagliore perché l'idea si è confusa come abbiamo osservato prima con quella dello sfarzo nell'astratto ci ha anche condotto all'uso esagerato degli specchi. Sistemiamo nelle nostre case grandi cristalli britannici e immaginiamo quindi di aver fatto una bella cosa. Ora anche il pensiero più superficiale sarà sufficiente a convincere chiunque abbia un po' d'occhio del brutto effetto di specchi numerosi soprattutto se grandi. Consideratolo separatamente dal suo riflesso lo specchio presenta una superficie continua piatta in colore senza rilievo una cosa sempre spiacevole ed ovvia considerato in quanto riflettore è potente nel produrre un'uniformità mostruosa ed odiosa e qui il male è aggravato non nella semplice proporzione diretta con l'aumentare delle sue fonti ma in un rapporto che aumenta costantemente infatti una stanza con 4 o 5 specchi sistemati a caso è per effetti artistici una stanza che non ha affatto forma se aggiungiamo a questo male il conseguente bagliore su bagliore abbiamo un perfetto guazzabuglio di effetti discordanti e sgradevoli il più perfetto bifolco nell'entrare in una casa così ricoperta di fronzoli percepirebbe subito qualcosa di sbagliato anche se potrebbe non essere del tutto in grado di stabilire la causa della sua insoddisfazione ma provate a portare quella stessa persona in una stanza arredata con gusto ed egli trasalirà in un'esclamazione di piacere e sorpresa è un male che deriva dalle nostre istituzioni repubblicane qui un uomo dal portafoglio capiente di solito ha un'anima piccina e la tiene là dentro la corruzione del gusto è una parte o una conseguenza dell'industria del dollaro quando diventiamo ricchi le nostre idee si arrugginiscono perciò non è tra la nostra aristocrazia che noi dobbiamo guardare se mai negli appalachi per la spiritualità di un baudoir britannico ma abbiamo visto case di americani di condizioni modeste che almeno per i meriti negativi potrebbero garezzare con uno qualsiasi dei mobiletti ormolud dei nostri amici oltreoceano anche in questo momento è presente all'occhio della nostra mente una stanza piccola non pretenziosa nelle cui decorazioni non si riesca a trovare un difetto il proprietario giaccia addormentato su un divano il clima è fresco è quasi mezzanotte tratteggeremo uno schizzo della stanza mentre egli dorme è oblunga circa 30 piedi di lunghezza e 25 di larghezza una forma che consente le opportunità migliori normali per la sistemazione dei mobili è un'unica porta per niente ampia che si trova ad un'estremità del parallelogrammo e due sole finestre che sono all'altra estremità sono grandi arrivano fino al pavimento hanno profonde rientranze e si aprono su una veranda all'italiana i loro pannelli sono di vetro cremisi incorniciati da palissandro e sono più massicci dell'usuale le tende si trovano all'interno delle rientranze e sono di pesante tessuto argentato che è adattato alla forma della finestra e ricade mollemente in piccoli volumi fuori dalle rientranze ci sono tende di seta di un color cremisi molto carico orlate con un intreccio dorato e contornate con il tessuto argentato che è la stoffa della tendina esterna non ci sono cornicioni ma le pieghe di tutto al tessuto che sono sottili più che massicce ed hanno un aspetto lieve hanno origine da sotto ad un'ampia trabiazione dorata riccamente lavorata che corre tutt'attorno alla stanza proprio nel punto di unione tra il soffitto e le pareti inoltre i tendaggi vengono aperti o chiusi per mezzo di una pesante corda d'oro che li circonda mollemente e che finisce in un nodo non sono visibili spille o soluzioni del genere i colori delle tende della frangia le tinte cremisi ed oro compaiono a profusione dovunque e determinano il carattere della stanza il tappeto di stoffa di sassonia è spesso circa mezzo pollice ed è dello stesso sfondo cremisi alleggerito soltanto dalla presenza di una corda d'oro come quella che orna ai festoni delle tende che è leggermente in rilievo rispetto alla superficie di sfondo e gettata di sopra in modo tale da formare una successione di brevi curve irregolari che sono talvolta l'una sull'altra le pareti sono tappezzate da una carta lucida di color grigio argento spruzzato di piccoli disegni arabescati di un colore più pallido del cremisi prevalente molti disegni alleggeriscono l'uniformità della carta sono soprattutto paesaggi di tendenza fantasiosa come le grotte delle fate di stanfield o il lago della palude triste di chapman ci sono non di meno tre o quattro teste femminili di eterea bellezza ritratte alla maniera di solli il tono di ognuno dei quadri è caldo ma scuro non ci sono effetti vivaci l'armonia regna ovunque nessuno è di piccole dimensioni i quadri piccoli danno ad una stanza quell'aspetto chiazzato che è il difetto maggiore di così tante opere d'arte toccate e ritoccate le cornici sono ampie ma non spesse riccamente intagliate senza essere appannate o filigranate hanno tutta la lucentezza dell'oro brunito sono messe attaccate alle pareti non sono appese con corde i disegni stessi visivamente rendono meglio se messi in quest'ultima posizione ma l'aspetto generale della stanza ne viene danneggiato si vede uno specchio non è molto grande è di forma quasi circolare ed è appeso in modo tale che da nessuno dei posti dove ci si siede abitualmente nella stanza la persona vi venga riflessa due grandi divani di palissandro e seta cremisi a fiori dorati costituiscono gli unici posti per sedersi ad eccezione di due sedie leggere da conversazione anch'esse di palissandro c'è un pianoforte anche questo di palissandro senza copertura è lasciato aperto un tavolo ottagonale del più ricco marmo frammisto ad oro è messo vicino ad uno dei divani anche questo non ha rivestimento i drappeggi delle tende sono stati ritenuti sufficienti quattro grandi e magnifici vasi di sevre dove sbocciano una profusione di fiori dolci e vivaci occupano gli angoli lievemente arrotondati della stanza un alto candelabro che sostiene una piccola lampada antica con olio profumatissimo sta accanto alla testa del mio amico dormiente alcuni scaffali pensili leggeri e aggraziati con i bordi dorati e cordoni di seta cremisi con nappine dorate sostengono due o trecento libri superbamente rilegati al di fuori di questi oggetti non c'è alcun mobile se si esclude una lampada di argand con un paralume di vetro semplice color cremisi che è collegata all'ampio soffitto a volta da una sottile catena d'oro ed effonde una radiosità tranquilla ma magica ovunque che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è attraverso